Per riprendere la scuola in presenza per tutti, senza più dover ricorrere alla DAD, la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all'80%. Sono i calcoli che fa il presidente della conferenza della regione, Massimiliano Fedriga, in un'intervista al Corriere della Sera, citando studi recenti. Servirà la vaccinazione obbligatoria dei docenti per partire in sicurezza? Fedriga risponde che in Friuli non è necessaria perché praticamente c'è il 100% dei vaccinati tra insegnanti e personale ATA. Bisognerà vedere se qualche regione ha particolari sofferenze e decidere come agire in quei casi eventualmente. Sull'argomento è intervenuto anche Silvio Berlusconi. Chi decide di non vaccinarsi non può imporre le conseguenze della sua scelta agli altri e deve accettare le limitazioni che ne derivano. Per la tutela della salute delle altre persone, scrive in una lettera al Corriere della Sera il presidente di Forza Italia, sono preoccupato dal fatto che il paese si stia dividendo nella più assurda delle polemiche, quella sui vaccini prosegue ed è del tutto illogico dare una caratura ideologica o politica ad una questione che è prettamente scientifica. La cosa che più mi rattrista, confessa Berlusconi, sono le parole di chi fa dell'opposizione ai vaccini e al Green Pass, ma anche all'obbligo delle mascherine e del distanziamento, una questione di libertà. Come se quella di vaccinarsi, di non adottare elementari cautele, fosse una scelta che non ha conseguenze sugli altri. Secondo l'ex primo ministro, in questo contesto così difficile, un paese fragile come l'Italia avrebbe bisogno della massima unità possibile. L'obbligo del Green Pass, afferma il leader di Forza Italia, è una misura di buonsenso alla quale noi siamo assolutamente favorevoli. E anzi, Forza Italia chiede l'obbligo vaccinale in un settore delicato come la scuola.